Per lo chef Luca Brasi ciò che conta è portare in tavola materie prime di alta qualità, al di là del chilometro zero. Ecco perché, innamoratosi della carne, ha aggiunto al suo ristorante La Braseria, a Osio Sotto, in provincia di Bergamo, una macelleria gourmet, puntando su razze, tracciabilità e frollatura. Inoltre i piatti a base di carne come fassona, chianina e scottonna bavarese, insieme a tutti gli altri mast della Braseria, sono a disposizione dei clienti anche per l'asporto, offrendo così un servizio di qualità per tutte le esigenze. Grazie a tutti!